Ciao a tutti e bentornati sul mio canale, oppure benvenuti se questo è il primo video che guardate qui sul mio canale. Allora, oggi facciamo un'altra bella sessione di domande e di risposte. Iniziamo subito con la prima domanda, che è una domanda scottante. Allora, ho 54 anni, al ristorante do del tu o del lei al cameriere che ne ha 30? Allora, purtroppo penso che la mia risposta vi deluderà, perché la mia risposta è dipende dal contesto. Dipende sempre dal contesto, perché dipende dal ristorante. Che tipo di ristorante è? È un ristorante informale, quindi una trattoria? In tal caso, puoi dare del tu al cameriere, che è più piccolo di te. Al contrario, se ti trovi in un ristorante elegante, in un ristorante sofisticato, è meglio dare del lei alle persone con cui si parla, non importa l'età. Valutate sempre in base al contesto in cui vi trovate, in base all'atmosfera. Se vedete che tutti intorno a voi danno del lei, date del lei. Se vedete che tutti intorno a voi danno del tu, date del tu. Però dovete essere voi a giudicare la situazione. Per quanto riguarda la situazione specifica della domanda, in realtà è molto generica come situazione, perché appunto dipende da che tipo di ristorante è, soprattutto. Allora, diciamo che la mia filosofia di vita è quella di dare sempre del lei all'inizio di una conversazione. È sempre meglio iniziare dando del lei. E poi la conversazione può evolvere in tantissimi modi, non importa, però se iniziate sempre dando del lei, fate vedere che curate la vostra presentazione. È ovvio che poi, se dovete parlare con un bambino o con una bambina, risulta strano dare del lei, quindi in quel caso non inizierei una conversazione con il lei, ovviamente. Però, insomma, come indicazione tenete sempre a mente questo. Passiamo alla domanda successiva. Devo dire il fine o la fine? Quindi, in questa domanda il dubbio è se mettere l'articolo il oppure l'articolo la, con la parola fine. La parola fine è maschile o femminile? Entrambe le cose. Perché? Perché fine può significare due cose. Se usiamo la parola fine al femminile, quindi la fine, stiamo dicendo la conclusione di qualcosa. La fine di una relazione è la conclusione di una relazione, il momento in cui la relazione termina. Stessa cosa, la fine di un film è la conclusione di un film, il momento in cui il film finisce. La fine. Quindi, se noi intendiamo dire la conclusione di qualcosa, la parola fine deve essere femminile. La fine. La fine. Invece, se diciamo il fine, quindi al maschile, stiamo dicendo un obiettivo, uno scopo. Per esempio, qual è il fine della tua azione? Sto chiedendo qual è l'obiettivo della tua azione? Qual è lo scopo della tua azione? Quindi, la parola fine al maschile ha un significato diverso. Perciò, in questo caso, sono corretti entrambi gli articoli. La fine. Il fine. Cambia il significato della parola. Quindi, dovete sostanzialmente capire che cosa volete dire. Passiamo alla domanda successiva. Come indovino quando mettere una doppia consonante? Allora, il fatto è che non devi indovinare perché le consonanti doppie fanno parte di una parola. Per esempio, mamma. È la parola mamma che è composta da quelle lettere e, guarda caso, c'è una doppia m, c'è una doppia consonante. Quindi, non è una questione di indovinare dove mettere le doppie consonanti, ma è una questione di conoscere le parole. Impariamo che una parola ha una consonante doppia nel momento in cui la studiamo, sostanzialmente. Forse, un consiglio che posso darvi è di concentrarvi di più su quelle coppie di parole che, appunto, differiscono solamente per una consonante doppia. Per esempio, casa, cassa. Lì dovete imparare a memoria sostanzialmente che casa è la casa dove abitiamo, mentre cassa, la cassa, può essere varie cose. Per esempio, la cassa del supermercato dove vai a pagare. Per il resto, diciamo che non si può indovinare, bisogna semplicemente conoscere le parole. Poi, passiamo alla domanda successiva. Allora, quando usiamo in al posto di nel, nello, nella, nelle, eccetera? Allora, ho proprio parlato di questo in uno degli ultimi video di grammatica che ho fatto, proprio sulla differenza tra preposizione semplice e preposizione articolata. Perché in è una preposizione semplice, mentre nel, nello, nella, nelle sono preposizioni articolate. Qual è la grande differenza? Qual è l'elemento da considerare in generale? È la generalità o la specificità dell'informazione. Quindi, se dico mi trovo in farmacia, sto comunicando una semplice azione generica. Mi trovo in farmacia. Se invece dico mi trovo nella farmacia a Piazza Cavour, sto specificando in quale farmacia nello specifico. E quindi, magari sto specificando in quale farmacia mi trovo perché in quella in cui ero prima non c'era quello che cercavo, per esempio. Comunque, se volete approfondire questo argomento, vi invito a guardare questa videolezione qui, dove parliamo di questo nel dettaglio. Vediamo la domanda successiva. Qual è la regola per usare o non usare l'articolo con casa? Come la frase casa mia. Allora, la parola casa è molto particolare. Perché? Quando noi diciamo casa mia, casa tua, casa vostra, casa nostra, casa sua, casa loro, ci stiamo riferendo nello specifico al luogo dove la persona abita. ed ha una connotazione intima. Quindi, quando dico casa mia, sto parlando del luogo della mia intimità, in qualche modo, no? Casa mia, dove abito. In questo caso, la costruzione è particolare. Diciamo casa mia, senza articolo e mettiamo il possessivo dopo il nome. Se invece dico la mia casa, con l'ordine standard, quindi articolo, possessivo, nome, mi riferisco sempre al luogo dove abito, ma faccio riferimento alla struttura, magari all'edificio, al palazzo, alla struttura della mia casa. Quindi, se dico la mia casa e casa mia, faccio una distinzione proprio sulla base della percezione che io ho di quel luogo, no? È esattamente come la differenza tra le due parole inglesi house e home. La mia casa è my house, casa mia è my home, quindi il luogo della mia intimità, in qualche modo. Ovviamente, casa mia può anche far riferimento ad altri luoghi che non sono effettivamente una casa, ok? Quindi, un posto può essere casa mia anche in modo figurato, ecco. Passiamo alla domanda successiva, che è Come sapere dove cade l'accento su una parola? Allora, anche qui è un po' lo stesso discorso delle doppie che abbiamo fatto prima. Sai dove cade l'accento nel momento in cui ascolti quella parola. Nel momento in cui vedi quella parola o ascolti quella parola per la prima volta, sai dove cade l'accento. Non ci sono delle regole per sapere dove cade l'accento, quindi anche noi madrelingua sappiamo dove cade l'accento perché è una vita che ascoltiamo la lingua italiana e quindi per esperienza sappiamo dove cade l'accento. Lo so che queste risposte non vi soddisfano perché non vi sto dando delle indicazioni concrete, però purtroppo questo è, non possiamo farci niente. Però posso dirvi che nella maggior parte delle parole italiane l'accento cade sulla penultima sillaba e queste parole si chiamano parole piane. Per esempio una parola piana è divano, perché ce l'ho davanti, quindi è la prima parola che mi è venuta in mente. Divano, questa parola è composta da tre sillabe, di, va, no. L'accento cade sulla penultima sillaba, su va. Divano, ok? Quindi la maggior parte delle parole in italiano è piana. Poi ci sono le parole tronche, che sono quelle su cui l'accento cade sull'ultima sillaba. E quelle però le notate subito allo scritto, per esempio, perché c'è l'accento grafico. Parole come città, caffè, università, sono parole tronche. Poi ci sono le parole sdrucciole, che sono quelle su cui l'accento cade sulla terz'ultima sillaba, come per esempio tavolo. L'accento è sulla terz'ultima, tavolo. Questi sono dettagli in più, anzi, però se volete saperne di più, scrivetemelo nei commenti qui sotto e magari in futuro ci facciamo una chiacchierata anche su questo. Io direi di avvicinarci alla fine di questo video e quindi rispondiamo all'ultima domanda, che è Quando si pronuncia bugia, si pronuncia la I, ma non nella parola mangia. Eh sì, perché pronunciamo la I nella parola bugia perché l'accento cade proprio sulla I. Come si divide in sillabe bugia? Bu-gi-a, quindi la I è accentata, questa è una parola piana, bugia è una parola piana, come la maggior parte delle parole italiane. Quindi questo che vuol dire? Vuol dire che l'accento cade sulla penultima sillaba, bu-gi-a, bugia. Quindi la I in questo caso è pronunciata, dobbiamo pronunciarla perché l'accento cade proprio sulla I. Nel caso di mangia, innanzitutto è una forma verbale, quindi mangia è un verbo, bugia è un sostantivo. L'accento sul verbo mangia cade sulla penultima sillaba, anche qui, anche questa forma verbale è piana. Mangia, due sillabe. L'accento cade su man. Quindi la I nell'ultima sillaba è muta, diciamo, non la pronunciamo. Si trova lì per consentire di pronunciare il suono G, dolce, mangia. Non è accentata. Altre parole che funzionano come bugia sono magia e nostalgia, per esempio. Sono tutte parole piane, come la maggior parte delle parole italiane. Va bene? Allora, io direi di concludere il video di oggi qui. Io, come sempre, vi ringrazio per aver guardato questo video. Se avete domande o dubbi, lasciate un commento qui sotto. Noi ci vediamo nel prossimo video. A presto! Ciao!